E in condizioni critiche e comprognosi riservata, la donna di 79 anni investita ieri al porto di Napoli da un'auto dopo una manovra sbagliata a bordo del traghetto Napoli-Palermo, che ha causato la morte di un altro uomo sul colpo. Secondo il bollettino medico diramato stamattina dall'ospedale Cardarelli di Napoli, la donna ha riportato un gravissimo politrauma da schiacciamento ed è ricoverata a rianimazione collegata a un respiratore automatico. La donna ha riportato nell'incidente fratture costali multiple, contusioni polmonari, fratture scomposte ad entrambi i femori trattati in urgenza con fissatori esterni e ha un'insufficienza respiratoria grave. La donna ha subito anche diverse trasfusioni di sangue a causa delle emorragie.